Siamo qui con la proprietaria della Caravella, Roberta Torricella, nella ultima serata della stagione. A proposito di questa serata, chi c'è stasera? Stasera abbiamo Gianni Savastano. Che cosa ci sarà questa sera? Che cosa potranno vedere le persone che verranno qua? Niente, questa sera abbiamo Gianni che farà un suo piccolo discorso, poi le foto con i ragazzi, con l'animazione di Pino e Luca che hanno contribuito in questo progetto. Infatti molte idee sono state anche le loro, ci hanno aiutato davvero tanto. E nell'estate prossima ci saranno altre di queste serate? Avete intenzione di farne altre? Sì, ne faremo penso altre 4-5 sempre con loro, se riusciamo a organizzare una cosa simile a questa. L'idea c'è. Applauso, voglio un applauso. È arrivato Gianni! Ciao Gianni! Cosa c'è una foto prima Gianni? Così, una di qua, una di là. Ok? Allora, ora abbassiamo un po' il volume e tiro il microfono. Mi fate l'urlo per Gianni? Oh ragazzi! Eccoci qua. Allora Gianni, dici qualcosa. Si può fare parlare? Stai senza pensieri? Ciao, voglio, come state? Stanno senza pensieri loro? Penso di sì. Tu pensi di sì? State senza pensieri? Ma non ho sentito. Ma questi non urlano. Dai, vai Gianni. Gianni, Salvatore, Gianni è pericoloso. Che dici, tu voglio tutto a posto? Vi ringrazio, so che avete aspettato parecchio, però ci stiamo con certo qua, quindi abbiamo dovuto spostare la mia uscita. Camaricere. Impedati qualcosa. Non lo so, io che mi devi mentare. Guardaci un po' di te, Gianni. Allora, ragazzi, Salvatore, lo chiamiamo Salvatore, dai, perché il suo vero nome è Salvatore. Allora, vi fate sentire un urlo, un applauso per Salvatore, dai. Ragazzi, è venuto qua direttamente da Gomorra, c'è anche il Gennaro. Mi fa un saluto agli amici, San Salvo, Basso, Cupello e altri da salutare. In Sernia. Che c'è sta in Sernia? In Sernia. Napoli ci sta, Napoli è un raggiissimo, tu ne no. Napoli ci sta. Poi che c'è sta? In Sernia, poi che c'è sta? I paesi qua, tu mi sai. Quelli di San Salvo. San Salvo. Basso. 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 Sì. Cupello, Cupello, Cupello. Cupello. Casetto, grande. A Fragola, bravo, sempre in Napoli. A Fragola. Poi che c'è? Ma tu stai? Vale, Valentina, dove sei? Ah sì, vabbè, quello è normale. Siamo, ma siamo. Dobbiamo ringraziare i proprietari, Roberto soprattutto che ha spinto per avermi qua, so che c'è stato pure un track. Siete venuti qua, c'è stato un track? No, ammazzo, vedi? Ma ci sono chi? Che è meglio? È morto. È morto, solo uno che umana. Chi umana? Ciro. Eh? Ciro. Bravo. Allora stanno senza consigliere questi uomini. Eh, ma tra te e Ciro chi comanda di più? Secondo te, ma che domanda fai? Ma che domanda fai? Andiamo a ragazze, Ciro. Andiamo a ragazzo, Ciro. Bravo. Ma poi sapete che cosa? Stiamo aspettando a casa. E pensavo, diceva, ma che si cazzo, solo un po' tempo come stanno facendo perdere. Allora, per chi vuole fare qualche domanda a Jenny, al volo, il primo che sali sul palco gli fa una domanda, uno, due, tre, il bambino, vieni qua, dai, dai un bacio, dai, dai 5 euro un frate, hai mai nato un'emozione, vai, ascoltiamo la domanda, ma tu quanti anni hai? 13, 13 anni, sei piccolo, non dovresti vederlo, comorre, fa vedere cose brutte, dai, qual è il tuo personaggio preferito? È Jenny, bravo, facciamo un applauso, dai, c'è qualche ragazza che vuole dire qualcosa a Jenny, ovviamente le foto si fanno lì dove c'è, insomma, quella parete bianca lì, però direttamente con le foto, va bene, dai, mi fate un ultimo applauso a Jenny, le foto lì nella zona privé, più forte l'applauso, l'urlo, Jenny, Salvatore, io a me, chiamo il bello, salvatore, io sono abruzzese, io non parlo abruzzese, tu parli la poligiana, ci provo, ci provo, però, no, non ci riesci, ok, dai, facciamo un applauso a Salvatore, Jenny, Marti, comorra, pronto? Si parte così, con una bomba di comorra con la sigla, grazie Salvatore, Jenny, un applauso! Ciao! Grazie a tutti Ciao, buonanotte, divertitevi